Micio Macio di un Marcello Chirico e Macio Micio di un Franco Leonetti, uno bianco nero a voi, ma soprattutto a tutti gli amici di Top Planet. Siamo l'antivigilia di Juventus Pescara, una partita per la quale non voglio spendere parole, ma soltanto un hashtag. Se una squadra ha Higuain, gioca Higuain e ho detto tutto. Molto da dire, invece c'è sul nostro unico sponsor, quello che ci permette di portare avanti la baracca, ovvero la clinica. Ti fate bene, fratelli? Con noi, infatti, abbiamo il dottor G Kong. Siete bravi, ma siete proprio bravi, siete bravissimi. E voi, Marcello Chirico e Franco Leonetti, siete i di bala Higuain del giornalismo italiano, va, vero lo dico. Siete dei fenomeni, va, siete lungimiranti, siete iperbolici, va, ve lo dice il vostro G Kong. E Top Planet funziona. Arrivano centinaia e centinaia le richieste di genitori sconvolti dalla presenza di un figlio forza inda che corrono ai ripari. Per accontentare tutte le richieste abbiamo istituito anche il J Hospital. In pratica i vostri bambini, qualora affetti da sospetta, ti fite per altra squadra che non sia la Juventus, vengono accolti a braccia aperte e nel giro di 12 ore escono dalla clinica più juventini di voi. A realizzare il miracolo in così poco tempo è direttamente il dottore G Kong. Infatti nel J Hospital i bambini vengono seguiti direttamente da me e qualcuno a questo punto potrebbe anche dire, ma G Kong tu te la canchi e tu te la fischi. E allora G Kong cosa fa? Lascia che siano i clienti a farmi la migliore pubblicità. Certo, sono Pedro, Pablo, Franchini e posso dire solo grazie a G Kong perché dopo il J Hospital mio figlio, convinto Fozza Inda, è diventato tifosissimo della Juventus. Certo adesso cammina con le stampelle ma si sa le fratture guariscono, grazie a G Kong. Io sono Ursus, Ursus si fredi. Che dire, fantastico G Kong, con una craniata secca nei denti ha trasformato mio figlio in un grandissimo tifoso juventino. Certo, ha perso tutti i denti, ma tanto erano denti da latte e ricresceranno. Però in casa non ho più un Fozza Inda. Sto troppo felice. DJ Kong è il dottore numero uno al mondo e il Gigi Buffon della medicina. Mio figlio l'ha solo guardato e quando ha sentito che doveva rimanere solo con lui, ha iniziato a gridare Abbasso Fozza Inda, Abbasso Fozza Inda, sei un grande G Kong. A OERJ Hospital funziona e funziona ed è brutto! Quel fracico di mio figlio si andava a dormire a Mascotto della Fozza Inda! Se ne andava a dormire con Ambrogio! Mo' Ambrogio lo usa per fare i rituali voodoo! Grande G Kong, sei il meglio! Da quando Ginovox è diventato direttore artistico? Anche noi papà siamo contenti di ricoverare i nostri figli. Loro diventeranno juventini puri e noi uomini più felici. Ebbene sì, mio carissimo Marcello Chirico, hai sentito bene? Sono diventato il direttore artistico della clinica Ti Fate Bene Fratelli e ho subito creato la stanza Top Planet. In questa stanza vengono accolti i genitori dei bambini e la capoinfermiera, niente di meno che Jasmine. Lei coordina il nostro eccezionale corpo infermiere che si prendono cura anche dei papà disperati che sono in corso Non è ancora il tuo momento, Oronzo. Ma adesso, miei amici maci e miei macemice, il vostro Ginovox vi saluta con un mega IEEEU e un grande ciao al suo Marcello Chirico, mentre per Franco Leonetti ci pensa lei, ci pensa Oronzia. Ciao Franco! Sei sempre nel mio cuore! Forza Iume! Grazie! Grazie a tutti.